Musica Si barrica in casa per evitare lo sfratto, portato al pronto soccorso il 46enne che aveva preparato benzina e acido muriatico. La parrocchia di San Marco a Sassonia di Fano è stata smembrata, il vicario della diocesi Pierpaoli rassicura quello che si sta facendo è poter offrire alle persone e ai battezzati un miglior servizio pastorale. Regione Marche ha insediato i nuovi assessori e i consiglieri dopo la presa d'atto delle dimissioni dei neoparlamentari. Chiusura del centro d'ascolto H risponde, il presidente dell'ambito sociale 6 risponde alle polemiche, la convenzione è legata a un finanziamento che non c'è più, ha detto, con altre risorse. Cerchiamo locali per un vero centro famiglie, qualcuno distorce la realtà e strumentalizza la disabilità. Ha aperto nel segno della solidarietà la 57esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna, presenti i sindaci dei comuni alluvionati, la città di Pergola, insignita del premio La Ruscella d'Oro. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli, sono stati vissuti momenti di tensione questa mattina a Trasanni di Urbino, dove la polizia di Stato è intervenuta nell'abitazione di un 46enne in ausilio all'ufficiale giudiziario incaricato di eseguire uno sfratto. L'uomo, deciso a non lasciare l'appartamento, ha inchiodato assi di legno e bancali a porte e finestre, munendosi di una grossa fiamma ossidrica accesa che non aveva esitato ad utilizzare contro i poliziotti che si stavano avvicinando. Per fortuna non li ha colpiti, gli agenti hanno iniziato così una lunga trattativa per convincerlo ad uscire dall'abitazione, poi, approfittando di un attimo di distrazione dell'uomo e del fatto che aveva aperto un piccolo spiraglio nel portone per parlare con loro, i poliziotti hanno fatto irruzione e lo hanno immobilizzato senza provocargli lesioni. Quanto è stato rinvenuto in casa ha evidenziato la potenziale pericolosità della situazione. L'uomo, infatti, aveva posizionato alcune bottiglie contenenti benzina oltre a dei diffusori riempiti con acido muriatico, forse da impiegare contro gli agenti. Il 46enne è stato trasportato al pronto soccorso di Urbino per gli accertamenti del caso anche di natura psichiatrica. E nei giorni scorsi la parrocchia di San Marco a Sassonia di Fano è stata oggetto di alcune modifiche da parte della diocesi di Fano. Sentiamo allora i particolari nel prossimo servizio con l'intervista al vicario pastorale Don Francesco Pierpaoli. La parrocchia di San Marco a Sassonia, che comprende anche quella di Via Nolfi, è stata oggetto nei giorni scorsi di una rivisita da parte della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Infatti le due realtà sono state smembrate. Questo non vuol dire che le celebrazioni non verranno più ufficiate, ha detto il vicario Don Francesco Pierpaoli. Quello che si sta facendo è poter offrire alle persone e ai battezzati un miglior servizio pastorale. Questo caso particolare qui a Fano, la parrocchia di San Marco in Sassonia, è stata smembrata come già tra l'altro per diversi servizi da diverso tempo avveniva. Le famiglie, i ragazzi, le 2600 persone che ne facevano parte sono state inserite nella parrocchia che è guidata dagli agostiniati di San Giuseppe al Porto, la parrocchia della Gran Madre di Dio guidata da Don Francesco Londei e la parrocchia del centro storico della cattedrale dove c'è Don Giorgio Giovannelli. Ecco, questo smembramento fa sì che il servizio continui ai fedeli, sia quello della carità, sia quello della catechesi, sia quello della liturgia. Nella chiesa di via Luigi Mascherpa a Sassonia le celebrazioni sono confermate la domenica alle ore 10, mentre lungo via Nolfi la Santa Messa si svolgerà alle ore 9 tutte le domeniche e dal mese di novembre verranno introdotte anche le messe feriali. Quella zona sono le sue aree francescane a compiere ancora un servizio pastorale. Questo movimento sta già avvenendo da diverso tempo nella nostra diocesi, nell'entroterra parliamo già di parroci che hanno addirittura tre comuni nelle loro parrocchie. Parliamo già quindi di un clero che è vero, è sempre più anziano e siamo sempre di meno, però c'è anche una crescita forte di tutto un servizio ministeriale offerto al laicato. Ecco, su questo punto, quindi io più che lanciare difficoltà australi contro le soppressioni, eccetera, direi che dobbiamo saper leggere i segni di questo tempo. Probabilmente le nostre comunità fortemente clericali, forse in passato, perché laddove c'era il prete c'era la chiesa, oggi si scoprono più popolo di Dio. Quindi è un invito a tutti a continuare a servire il Vangelo nei luoghi attraverso un servizio maggiormente sinodale, come oggi si dice, cioè capace di coinvolgere laici, preti e religiosi nella vicinanza e nell'evangelizzazione a tutti. Infine, ha concluso Pierpaoli, tutte le documentazioni come battesimi, matrimoni passati o le certificazioni delle cresime svolte a San Marco saranno a disposizione nella parrocchia di San Giuseppe al Porto. E in Consiglio regionale oggi è avvenuta la presa d'atto delle dimissioni dei componenti dell'esecutivo eletti in Parlamento con il subentro dei nuovi assessori e consiglieri. Entrano a far parte dell'Assemblea Monica Acciarri e l'indita Elezzi della Lega e Simone Livi di Fratelli d'Italia, al posto rispettivamente di Andrea Maria Antonini, neo-assessore al bilancio che subentra Castelli e Chiara Biondi, la quale ha assunto le deleghe della cultura, istruzioni e pari opportunità di Giorgia Latini, assessore uscente e neo-deputata e della neo-senatrice Leonardo, che era consigliera e presidente della Commissione Sanità. Sempre per il meccanismo previsto dalla normativa vigente, diventano consiglieri effettivi Andrea Assenti di Fratelli d'Italia e Giorgio Cancellieri della Lega, che dall'inizio della legislatura hanno svolto il ruolo di supplenti degli assessore Castelli e Carloni. E torniamo a parlare del centro ascolto H risponde, perché oggi sull'argomento è intervenuto anche il partito socialista di Fano, che in una nota ha scritto «La lettera, la diffida, lo sfratto firmata dall'assessore Tinti e dalla dirigente dell'ambito sociale, ai dieci ragazzi di H risponde, è una brutta scivolata nella forma e nella sostanza. Una assenza di umanità, ha proseguito il partito socialista, di valori etici e di rispetto verso chi afferma il diritto alla normalità. Un gesto grave perché arriva dai vertici più alti dell'ambito sociale, che per sua natura ha il dovere di essere l'avvocato di tutela dei diritti, all'inclusione e dalla fragilità. In tempi diversi, in cui le parole avevano forma e valore, si sarebbero chieste le dimissioni dagli incarichi. Oggi non è così e le dimissioni a noi non interessano. Come socialisti hanno aggiunto, siamo preoccupati della conferma che riceviamo con questo atto. Sono vuote affermazioni, ingiustificate e risibili. E a rispondere agli attacchi politici arrivati da più parti è l'assessore al welfare, nonché presidente dell'ambito sociale 6, Dimitri Tinti. Assessore, come mai chiudete il centro? In questi giorni c'è un tentativo che io stigmatizzo di avvelenare la discussione esasperando i toni sul tema della disabilità. La disabilità è un tema sempre più complesso e che va gestito tramite collaborazioni virtuose tra la parte pubblica, quindi l'ambito sociale, i servizi sociali associati e le realtà associative del terzo settore, senza alcuna pretesa di avere privilegi rispetto ad altre associazioni di familiari che operano nel nostro territorio. C'è qualcuno che vuole distorcere la realtà, ma i fatti sono questi. Noi da tempo, da prima che scadesse la convenzione, il 31 maggio scadeva la convenzione per la gestione del centro di documentazione Informazione Handicap in via Froncini, abbiamo interlocuito più volte con la presidente della GFI. Quella convenzione era legata a un finanziamento, quel finanziamento non c'è più, ma nel frattempo gliel'abbiamo rappresentato più volte, abbiamo altre risorse da utilizzare e stiamo cercando di locali che ci possano consentire di mettere in piedi, utilizzando quelle risorse dedicate, un vero e proprio centro famiglie. Quindi un servizio più inclusivo, più articolato, che coinvolge un'attività di informazione, di orientamento, di ascolto, nei confronti di tutte le famiglie vulnerabili, comprese le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità. È un servizio davvero più innovativo che hanno già città a noi vicine e che anche Fano merita. Per questo non accetto quello che c'è anche in questi giorni, questo metodo intimidatorio, allusivo, arrogante. La disabilità non va strumentalizzata, non va utilizzata per altri fini, per cui si vuole attaccare me, si faccia pure, ma io difenderò il mio lavoro e non accetto davvero che si possano mettere in campo e strumentalizzare ragazzi con disabilità e si manchi così di rispetto alle loro famiglie. I 5 Stelle fanno prove di matrimonio con una parte della maggioranza per paura di perdere le elezioni. I consiglieri hanno presentato un'interpellanza sul centro di ascolto solo dopo che è stata resa nota la situazione. A queste dichiarazioni del segretario dell'Udc, Stefano Pollegioni, rilasciate ieri nel nostro telegiornale, oggi replica il consigliere pentastellato, Francesco Panarone. Sentiamo. Ringraziamo Fano TV che ci dà la possibilità di replicare a Pollegioni dell'Udc che ieri ci ha tirato in ballo in una polemica di basso livello sul sociale. Sul sociale non si fanno polemiche. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato attento al sociale, tutti lo sanno, abbiamo presentato in Comune diversi atti sul PEBA. Io quando ero in carrozzina avevo chiesto a Sindaco Giunta di muoversi in carrozzina per una settimana per rendersi conto. In questo momento abbiamo in programma altri due atti che staremo per presentare. Nello specifico dell'HRisponde di Via Froncini siamo stati contattati la scorsa settimana perché l'associazione in questione ha avuto la PEC il 14 ottobre. Ci siamo subito attivati senza andare dietro Pollegioni ed abbiamo presentato un'interpellanza proprio ieri che si discuterà in Consiglio Comunale. Pollegioni purtroppo fa politica sui giornali, sulla stampa. Noi consiglieri comunali lo facciamo in Consiglio Comunale perché portiamo atti e vogliamo che il Sindaco e la Giunta ci rispondano nelle sedi opportune. Per quello che riguarda invece la polemica sul futuro, sulle alleanze e la paura di perderle la città, il Movimento 5 Stelle non ha mai governato la città. Se dovremo stare ancora in opposizione ci staremo tranquillamente. Non ci interessano le poltroni, ma i temi. Se ci interessavano le poltroni avremmo accettato i vari inviti che ci sono stati fatti da tutte le sponde a partire dal ballottaggio Tarsi Seri in avanti. Invece correntemente stiamo all'opposizione e portiamo avanti i temi. I sociali prima di tutto. I sociali, sul sociale non si possono fare polemiche. Noi andiamo avanti in Consiglio Comunale e aspettiamo le risposte che ci darà la Giunta. Si chiama Vivere Sereni ed è il progetto di inclusione dedicato ai più fragili presentato nei giorni scorsi a Saltara di Colli al Metauro. Dar voce a chi non ne ha va in supporto di anziani disabili. L'associazione Vivere Sereni è nata 12 anni fa con l'obiettivo di aiutare le persone più fragili del territorio. Nei giorni scorsi alla villa del Bali di Saltara l'associazione ha presentato il progetto di inclusione, condivisione e integrazione che prevede la realizzazione di un centro diurno e residenziale tra Villanova e San Liberio. Nella struttura si svolgeranno laboratori didattici e percorsi ludico-produttivi ed educativi come visite guidate, percorsi sensoriali, educazione all'ambiente, alla salute e alla quotidianità ma anche attività motoria dedicata, orti biodinamici e aree verdi con alberi da frutto, erbe aromatiche e officinali. Un'opportunità diventata anche un'esigenza del territorio come ha dichiarato il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti. Dopo i saluti istituzionali sono seguiti diversi interventi durante i quali sono stati illustrati i bisogni attuali, la storia dell'associazione e la rete dei servizi. Abbiamo avuto i maggiori relatori dove il dottor Pesaresi ha parlato dello stato sociale in Italia e nelle Marche con le sue problematiche e terminato poi con uno studio fatto sul nostro territorio dalla professoressa Angela Genova dell'Università di Urbino con la collaborazione delle ACRI locali dove praticamente ha fatto uno studio sul nostro territorio, sui bisogni ma soprattutto quello che è stato importante che ha intervistato i nostri iscritti e quindi le famiglie dove hanno portato i loro bisogni. Lo scopo di questo incontro è stato quello, ripeto, di far conoscere alle amministrazioni, al pubblico, quello che può fare il privato in sintonia con loro per dare risposte urgenti sul territorio dei bisogni della popolazione, soprattutto quella più fragile, l'anziano e diversamente abile. Oggi nasce proprio una vera e propria sinergia, un sodalizio con l'associazione Vivere Sereni. Sì, come sempre purtroppo dobbiamo vedere che chi si occupa del sociale, un grande contributo del sociale viene da associazioni, viene da privati che in qualche maniera soccombono alle poche ricchezze che noi disponibilità che abbiamo. Quindi da una parte mi fa estremamente piacere, ci fa ben sperare che questi contributi siano di buon aspiccio per il futuro e dall'altra ovviamente ci lascia un po' di rammarico perché questo sarebbe quello che dovrebbero fare le istituzioni però che spesse volte non riesce a colmare tutto quello che è la necessità. E nel comune di Terre Roveresche arriva un autobus totalmente elettrico con una scritta eloquente su entrambe le fiancate Io vado con il sole ed è proprio così perché le ricariche di energia saranno effettuate utilizzando l'impianto fotovoltaico presente sopra la copertura del deposito comunale ubicato nel municipio di San Giorgio. Una scelta nel segno della duplice sostenibilità ambientale ed economica ha commentato il sindaco Antonio Sebastianelli oltre ad evitare emissioni nocive in atmosfera questo mezzo ci consentirà di risparmiare il costo del diesel che attualmente è vicino ai 2 euro al litro ed i litri per spingere un polmino ce ne vogliono circa 6 al chilometro sul risparmio che sarà in grado di garantire questo nuovo mezzo il sindaco ha aggiunto ogni euro non speso in questo ambito potrà essere destinato per un servizio ulteriore a favore della comunità lo scuola bus green ha una capienza di 31 posti più altri due di servizio e sarà in funzione già dai prossimi giorni e da terre roveresche adesso ci spostiamo ad Acqualagna perché domenica scorsa ha preso il via la fiera nazionale del tartufo bianco il premio ruscella d'oro è stato consegnato alla città di Pergola eccellenze no gastronomiche e solidarietà bagno di folla domenica scorsa alla fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna il taglio del nastro con i sindaci dei comuni colpiti dalla recente alluvione ha dato il via ufficiale alla 57esima edizione dell'evento che celebra il re della tavola l'inaugurazione è stata anticipata da una cerimonia al teatro Conti dove il primo cittadino Luca Lisi ha insegnito della ruscella d'oro la città di Pergola che ha dovuto annullare la fiera del tartufo insegneremo alla ruscella d'oro anche allo chef Gennaro Esposito questo ci fa capire quindi l'importanza di questa fiera e diversi appuntamenti avremo diversi appuntamenti nelle giornate che vanno dal 23 di ottobre al 13 di novembre appuntamenti con gli chef stellati che si alterneranno al nostro salotto da gustare ci sono diversi appuntamenti che riguardano il museo del tartufo la casa museo di Enrico Mattei, il museo archeologico la mostra d'arte contemporanea quindi sono tutte giornate ricche si alterneranno diversi gruppi musicali nelle giornate della fiera avremo la ricerca del tartufo anche attività che riguardano i bambini ad esempio l'attività di mani in pasta e poi un appuntamento importante sarà nella giornata del 30 ottobre una maratona musicale di artisti che si esibiranno gratuitamente per raccogliere fondi per il comune di Cantiano per la riapertura del teatro di Cantiano quindi tanto da vedere, tanto da offrire, è importante, tanto da gustare alla giornata inaugurale erano presenti diverse autorità provinciali e regionali oltre ai neo eletti al Parlamento Mirco Carloni e Antonio Baldelli l'assessore Stefano Guzzi, dopo aver ribadito l'impegno della regione per i comuni alluvionati ha dichiarato quanto il tartufo prosperi in questo territorio grazie alla tutela dell'ambiente vuol dire intanto mantenere vive le consuetudine che ci sono in questi territori cioè quella di mantenere l'ambiente integro quello di mantenere alte le tradizioni, le culture storiche, vivere la montagna, vivere in montagna e portare avanti quelle attività storiche legate a questi territori poi che tutto questo diventi anche, tra virgolette, un'attività, un business, usiamo questo termine da parte di imprese che commercializzano e di tanti tartufai, cavatori che, diciamo così portano avanti quel tipo di attività, è altrettanto importante pensate che solo qui ad Aqualagna, che è un comune non tanto grande ci sono oltre mille persone col patentino da cavatore di tartufi poi non tutto ovviamente lo fanno per mestiere, molti lo fanno magari per hobby nei ritagli di tempo, ma è un'attività fortemente impattante in maniera positiva anche dal punto di vista dell'economia e la regione Marche per questo sostiene fortemente e questa fiera e questo tipo di attività legate all'entroterra, ai borghi e alla montagna perché credo sia una grande possibilità di rilancio dei nostri territori anche in questo momento di crisi La fiera prosegue nel prossimo fine settimana nel lungo ponte di Ogni Santi per terminare il 13 novembre Il programma completo è consultabile sul sito acqualagna.com Il prefetto di Pesaro e Urbino, Tommaso Ricciardi, ha ricevuto in dono una lampada realizzata dall'artista caporeparto dei Vigili del Fuoco, Angelo Melaranci Alla presenza dei comandanti dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino e di Ancona è stata consegnata la lampada da tavolo con l'effigie della fiamma che è da sempre il simbolo dei pompieri Il prefetto ha ringraziato per il dono che sarà la testimonianza della sua lunga carriera al Ministero dell'Interno dove ha prestato servizio nelle diverse articolazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dai quali ha potuto apprezzare la professionalità e lo spirito di abnegazione con i quali quotidianamente prestano servizio a favore della società E con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale Vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e le programmazioni di Fano TV L'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la Rassegna Stamp Grazie per essere stati con noi, arrivederci Grazie a tutti